Non si ferma l'ondata di criminalità che ha investito il capoluogo e che alle prime luci dell'alba di questa mattina si è tradotta in un incendio di natura molto probabilmente dolosa appiccato allo stabilimento balneare Sunrise in località Giovino, a Catanzaro Lido. L'allarme è stato dato intorno alle 5.30 di stamane, con le fiamme che hanno distrutto completamente la veranda esterna e parte della struttura interna. Sul posto sono intervenuti dapprima i vigili del fuoco della compagnia di Selia Marina e successivamente quelli di Catanzaro. L'intervento subitaneo ha permesso di scongiurare la completa devastazione del fabbricato, costruito per lo più in legno, particolare di cui gli incendiari avranno certamente tenuto conto. Davanti allo stabilimento andato in fiamme si è radunata una moltitudine di persone, la maggior parte delle quali aderenti alla manifestazione a tutela della pineta in questa zona, prevista appunto per la giornata odierna. Al momento l'intera aria intorno a Lido è stata messa sotto sequestro da parte delle forze dell'ordine che vogliono accertare l'intenzionalità di quanto accaduto.